Ciao a tutti ragazzi, sono di nuovo io, Siamo Bricks, oggi in questo video vi presento una delle mie nuove creazioni. Questa è una replica di una Ford GT 40, completamente realizzata da me. Sì, ho preso ispirazione da un modello che ho trovato su internet, in realtà sarebbe che questo modello era preesistente già, è stato già progettato dalla Linea Speed Champions e dovrebbe uscire in un futuro prossimo e io ho creato questo modello modificando la mia parere a mio piacere secondo alcuni parametri che prima, cioè il modello originale secondo me non andavano bene e per esempio, cosa da notare, io non avendo particolarmente tanti pezzi, per esempio come queste qui davanti erano qui nei lati, io ho sistemato queste e devo dire che sinceramente sono meglio e iniziamo subito a vedere i dettagli, dal retro abbiamo questi due grossi tubi di scappamento con le luci posteriori e la griglia, se voi andate, anzi, alla fine del video vi metto una foto della Ford GT originale così capite quanto è fedele al modello originale. Qui abbiamo dei dettagli abbastanza belli, vedete da sotto abbastanza complicato, vabbè, le luci posteriori, qua abbiamo un piccolo alettone, molto carino anche questo, in retro ci sono pese d'aria, tipo questa è una pese d'aria, questa è una pese d'aria, anche questa, questo è lo noto posteriore con i brick transparenti, scusate perdo un po' l'iquadratura che io non mi ricordo mai dove è la camera, e le ruote sono, ho deciso di mettere questi cerchioni perché a mio parere sono più fighi, vedete è un po' complicato l'interno, dopo vi smonto una parte e vi faccio vedere quanto è complicata questa costruzione, esatto. Ok, passiamo a vedere la zona cockpit, o cabina di comando, la chiamo così in inglese, vedete qui due pezzi neri, niente, cockpit classico della linea Speed Champions, qui il nostro pilota che vedremo dopo, l'interno sono soddisfatto, ho messo dei pezzi rossi a simulare la stoffa, comunque qualcosa di lusso, un dark red molto simpatico, poi qui davanti abbiamo una console di comando, che in realtà è una, il pezzo stampato sta a simboleggiare la console di qualsiasi videogioco, però insomma, avevo usato quel pezzo e basta, qui sollevando la zona, il vetro, si vede il motore, motore, la scala è piccola e quindi ho tentato di fare il mio meglio e vedete anche voi un po' che è molto figo comunque, vabbè, riabbassiamo la zona, mettiamoci il nostro cockpit e via. Davanti c'è questa linea molto accattivante, che rende unico il modello, è realizzata con delle clip, vedete adesso vi stupirò, e voilà. All'interno abbiamo il sistema batteria, il raffreddamento del motore elettrico e un po' di cose così, poi qui abbiamo le luci, vedete questa davanti è la classica presa d'aria A3, e devo dire che è molto carina, e stavo dicendo i lati appunto, adesso lo smonto, se riesco eh, senza distruggerla, dovrei farcela, ecco qua, vedete che è veramente molto, veramente molto intricato come costruzione, sono arrivato a questa soluzione, perché in realtà non avevo altri pezzi, questo non è per niente fissato, vabbè, rimettiamo su il pezzo, e questa è un'altra presa d'aria, un'altra presa d'aria utile, e niente, questa è la macchina, ora vediamo il nostro pilota, pilota molto classico, una maglietta della shell, pantaloni beige, vedete il casco, quello vecchio, dietro non ha nessuna print, nessuna stampa, togliamo il casco, proprio una faccia base, molto basic, infatti vedete, dietro non ha nessuna stampa, e niente, ecco la Ford GT40 in tutto il suo splendore, tra l'altro notate questa piattaforma rotante, che è veramente molto figa, è molto semplice da costruire, sono veramente soddisfatto, ragazzi, per questo video è tutto, per quelli che si preoccupano che non faccio video, sono un po' impegnato, e vabbè, pian piano, ragazzi, tanto non siamo neanche tantissimi, cioè siamo 27 iscritti adesso al corrente, quindi non è che, sì, mi sopportate, la mia passione è l'ego, e anche un po' Minecraft, sapete, io sono una persona molto creativa, e a me piace fare entrambi, quindi do un po' di tempo all'uno, un po' di tempo all'altro. Un'altra proposta che mi era venuta in mente era di fare una serie di sopravvivenza su Minecraft, aprire un nuovo mondo, quando uscirà la 1.11, e non so ancora quando uscirà, quindi ci vorrà un po' di tempo, però sono sicuro che ne varrà veramente la pena. E quindi, niente ragazzi, vi saluto, ciao e alla prossima!